Quale futuro immagina Toyota per una mobilità sostenibile all'interno dei magazzini? Toyota Material Engineering Italia immagina una importante e impattante attività di movimentazione e mobilità sostenibile all'interno degli spazi di magazzini, non solo all'interno ma ovviamente anche all'esterno quindi andando a toccare anche ambiti prossimi alle realtà logistiche e quindi di magazzino parliamo infatti quasi spesso e sempre di mobilità e di movimentazione sostenibile dove ovviamente anche il trasporto su gomma che sia per mezzo di track o di auto valga la riqualificazione di tutta l'iniziativa di sostenibilità a favore della sostenibilità e quindi di meta progettazione e di progettazione delle soluzioni intralogistiche quindi il futuro di magazzino vedendo l'idrogeno come primario vettore capace di qualificare un percorso che va verso la zero emission è quanto di più Toyota immagina e crede e si impegna ovviamente a promuovere a livello di comunicazione e quindi di marketing, questo è il mio ruolo e comunque in tutta quell'attività di ricerca e sviluppo che ci ha già impegnato nella produzione di progetti pilot a sostegno e a supporto di grandi clienti a livello europeo e ovviamente anche sul nostro territorio allo stesso modo importanti e impattanti.